4 giorni bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono DogDog406 e oggi con me c'è un ospite speciale mia zia ciao non fate caso a lei no no fateci caso perchè sono l'unica zia di Simone si vabbè oggi vi mostrerò appunto sono qua in vacanza in montagna vi mostrerò la mia casa tienilo te tienilo te che io non posso e poi in giro poi in giro ok questo è il salone questa è la televisione e questo sono io qua ci sono tutti i miei giochi tatuette ok adesso andremo in una delle due camere cioè la mia c'è questa nella luce questo è il mio letto no anzi questo è il mio letto questo è il letto questo è l'armadio questo sono io nello specchio e questa è l'altra tv ok adesso andremo nell'altra camera ok stiamo andando nella camera ok qua c'è mia nonna questa è mia nonna che stira è la mia nonna che stira saluta saluta saluto di ciao di ciao ciao ok questo è il letto qua c'è sempre mia nonna che stira questo è l'armadio ragazzi adesso andremo nel bagno no il bagno è il disordio ok questo è il bagno dammi 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 ok il water un lavandino la lavatrice che sta andando e la vasca da bagno ok adesso adesso andremo nella cucina mettiti sul water no ok ragazzi mia zia vuole che mi sieda sul water no no dai sta facendo tutto no vabbè adesso andiamo in cucina se vedete che sto stanzionando perché mi fa male la gamba questo è lo specchio sono io non è una cosa bella questa è mia zia col computer e questa è la cucina questa è la cucina questo è mio nonno bronciato saluta dai saluta nonno no ma quanto robiamo a tirare e mammona beh come no mi ricorda ti quale che hai detto vabbè questa è la cucina quello che hai detto questo è sempre mio nonno nonno incavolato e per questo va che ti stanchi per questo video e tu vabbè il giardino vai te adesso io non ci sarò ma mia zia vi farà vedere il giardino dico al tuo patrino ok dai dai ci sono tutto lì vai 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 le vabbè 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 Grazie. Ok ragazzi Scusate per la scritta Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima